Santa serata a tutti voi, amici carissimi, ovunque siate in questo momento, mentre state ascoltando questo mio saluto serale, questo video messaggio per pregare insieme a me e per accogliere la benedizione del Signore. Ho meditato sul salmo che ascolteremo domani nella liturgia e il salmo è il 22. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome, anche se vado per una valle oscura non temo alcun male perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Pensavo a me, a tutti voi, come piccoli agnellini nelle braccia del Signore. Lui, il pastore buono, il pastore bello, il pastore santo, che dà la vita per me, per voi, che mi custodisce dal nemico, si prende cura di me. Abbandoniamoci con fiducia somma nelle mani del Signore. E sera, tutto volge a tacere, i rumori cambiano, i rumori del giorno cedono a quelli della notte. Vogliamo dire insieme grazie al Signore? Facciamolo, per un istante, tutti insieme. Grazie Signore perché? Grazie Signore perché mi hai dato la vita. Grazie Signore perché mi hai dato una madre, un padre, una famiglia. Grazie Signore perché mi hai voluto sacerdote. Grazie Signore perché mi hai dato una comunità. Grazie Signore perché perdoni i miei peccati. Grazie Signore perché mi usi misericordia. Perdonami Signore se non sono ancora come Tu mi vuoi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Un piccolissimo avviso prima di lasciarvi. In questi giorni da martedì a sabato mattina sono in Sicilia e quindi non ci saranno i momenti pomeridiani di preghiera nella coroncina, nel rosario, nella messa in diretta. Quindi abbiate pazienza, ci ritroviamo presto. Accompagnatemi con la preghiera. Seguite sia Facebook che Instagram, chi ce l'ha, perché vi aggiornerò su alcuni momenti che in questi giorni però faremo insieme. Vi lascio un bacio fraterno e vi auguro buonanotte. A domani.